Senza turismo per i blocchi e le limitazioni agli spostamenti imposti dall'emergenza covid sono a rischio i 311 tesori alimentari tradizionali dei borghi di Puglia custoditi da generazioni dagli agricoltori e salvati per sostenere la rinascita del paese e l'allarme lanciato da Coldiretti Puglia in occasione delle ricorrenze di Pasqua e del lunedì dell'Angelo. La Puglia è particolarmente ricca di borghi con il 33% tra i più belli d'Italia dove si conservano le tradizioni antiche e non gastronomiche rurali che incrementano la capacità di offrire un patrimonio naturale paesaggistico, culturale e artistico senza eguali dove doppi, GP e 311 prodotti pugliesi riconosciuti tradizionali dal MIPAF vengono coltivati, allevati e trasformati in quelli che rappresentano veri e propri presidi della biodiversità. L'assenza di turisti stranieri e italiani ha un impatto pesante sulla sopravvivenza di tesori agroalimentari unici al mondo legate alla storia e l'economia dei territori, spiega Coldiretti un patrimonio da salvare che non ha solo un valore economico ma anche storico, culturale e ambientale. Il turismo enogastronomico è il vero traino dell'economia turistica pugliese, insiste il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, caratterizzato da 5 milioni di olivi pluricentenari 311 prodotti riconosciuti tradizionali dal MIPAF, 10 prodotti DOP, 29 vini DOC e 6 IGP oltre a pregevoli masserie storiche e le più belle d'Italia che caratterizzano la proposta turistica pugliese. Il crollo del turismo straniero in Puglia conclude Coldiretti ha causato un buco di circa 5 miliardi delle spese dei viaggiatori dall'estero.